In attesa della decisione della Giunta sulla non certo facile decisione di presentare il ricorso al tarre contro il piano espropri presentato da Anas per la costruzione delle bretelle che saranno propedeutiche al blocco del nodo di Olmo, si registra una nuova uscita del gruppo di Scelguerezzo sulla questione. Per la Giunta Ghinelli, dice la nota firmata da Marco Donati e Valentina Sileno, crediamo che sia arrivato il momento di fare una scelta, presentare il ricorso al tarre contro la decisione di non sottoporre a valutazione ambientale strategica le bretelle stradali di congiunzione con l'AE78. Come gruppo consigliare, prosegue la nota, abbiamo già presentato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta su questa direzione che non è stato accolto dalla maggioranza. Il nostro auspicio è che chi ha responsabilità faccia un passo in avanti presentando il ricorso prima che scadano i termini. A oggi ci sono 900 firme di cittadini di Arezzo su questo tema, conclude la nota, cittadini che meritano attenzione e ascolto da parte della politica locale e ancora di più da parte di chi ha ruoli di governo.